17.46, giovedì 22 marzo. Siamo qua davanti, Apple Store, c'era quel mobile, sempre. Siamo qui con i ragazzi di Apple Zane, lì c'è anche la Vice. Siamo qui, un attimo ci hanno offerto un buon marzo. Speriamo che non dobbiamo andare in bagno. Mi pareva quando veniva davanti che c'era il sole, l'hanno portato anche a me, era molto più buono. No, comunque, molto gentili anche i ragazzi di Genius che si sono affacciati, rispondono alle domande, hanno detto che stanotte ci vengono a trovare, è venuto addirittura uno della sezione business, cioè i proprietari praticamente, a parte il copertino, certo, per aglietarci, no no, veramente bravi e la gente ci guarda sbalordita, un po' schifata. E fanno bene. No, va bene così. Speriamo di fare una buona serata, Polizia, Normalia, Bologna e sempre AppleMobile.it e ci vediamo stasera. Ok, facciamo una panoramica sulle... abbiamo adesivi, adesivi, un sacco di roba, ma proprio un sacco offerte da Proporta e da Mollichina. Molichina, questo è Greg, abbiamo moltissimi premi, adesivi, gadget, qua sotto c'è altra roba, insomma, i ragazzi della fila si divertiranno, insomma. Queste sono le nostre magliette che regaleremo dopo, girala. Perfetto, ok. Sei bellissimo, Greg. Ciao, cari. Ciao.